Andò via per ragioni di studi, perché dovevo sostenere loro gli esami da notario, la scelta cadevo qualche volta su Marseille e qualche volta su Romano, eravamo i tuoi, i norani che con le fanno il posto. Per ragioni di studi, non lo so per quale motivo, si annontano Romano, insomma, e rimasto io a continuare il campionato di prima divisione. Ricordo tante partite, con amarezza ricordo pure una sconfitta, insomma, addirittura in occasione della festa di San Paolino contro la Santa Anastasia di Vettore per 3 a 1, dove capitarono degli incidenti con l'arbitro Paurice. Ricordo anche l'ultima partita, che fu determinante per il nord, per il salto di qualità dalla serie di prima categoria in serie C, la famosa partita che andammo a Ischia e vincevano per 2 a 1, dove ricordo veramente, con tanta nostalgia e con tanta orgoglia di aver parato addirittura un calcio di ricordo, tirato da uno dei barili, che non lo so se attualmente è il dirigente o meno dell'Ischia. La squadra che stravigeva su tutti i campi, sia in esterno, insomma, in interno, applicata in un modo favoloso, non il 4-2 come si diceva, ma addirittura era, secondo me, il merito, nella sua espressione più pura, due ali, le due mezzali, con un centro mediale che specialmente...